Anche i primi 4 mesi del 2012 hanno confermato lo stato di malessere dell'economia salernitana. Secondo i dati della Bocconi diffusi oggi da Confindustria Salerno, infatti nel primo quadrimestre del nuovo anno sarebbe già stata richiesta l'80% della cassa integrazione erogata nel 2011. Una crisi sulla quale gravano soprattutto l'alta tassazione e la contrazione del credito, dati pesanti resi noti alla vigilia del 1 maggio, festa dei lavoratori che nelle intenzioni del presidente di Confindustria Macauro dovrebbe vedere insieme imprenditori, sindacati e dipendenti accomunati dagli stessi interessi, cioè la conservazione del tessuto produttivo. In condizioni come queste le aziende chiudono. Io dico che abbiamo capito che si muore non soltanto per i troppi debiti ma anche per i troppi crediti. Se guardiamo qualche dato, il 2012 è un quadrimestre pessimo. L'80% già dei cassi integrati del 2011, per quello che è l'osservatorio delle nostre aziende associate. In questa provincia noi abbiamo una fortuna, a mio modo di vedere. Abbiamo una classe sindacale matura, abbiamo una classe sindacale che è vicina ai propri lavoratori, così come lo sono i piccoli imprenditori, i medi imprenditori. E il 1 maggio credo deve cambiare anche nelle sue forme. Immagino che è necessario, forse in questo momento non c'è stata la possibilità e il tempo. Ma perché non immaginare un primo maggio in cui gli imprenditori e i lavoratori sono insieme a difendere il lavoro delle proprie aziende e il lavoratore dei propri lavoratori. Ci accomuna una cosa, la morte. Si uccidono lavoratori che non riescono a mettere il piatto a tavola per la propria famiglia, si uccidono gli imprenditori che non riescono a pagare le tasse, che non riescono a portare avanti la propria attività e per dignità muoiono. Sono centinaia i lavoratori e gli imprenditori che si sono tolti la vita per questo. Quindi è un primo maggio, secondo me, che deve avvicinare gli imprenditori ai lavoratori e abbiamo una possibilità. Noi abbiamo una classe sindacale in questa provincia, a mio modo di vedere, matura. Guardiamo negli occhi i lavoratori nello stesso modo. Quando guardiamo un lavoratore nell'interno delle nostre aziende, lo guardiamo, ci incrociamo negli occhi per capire che questo non è il momento per rivendicare chissà quale grande battaglia sindacale, ma è il momento per difenderci, è il momento per stare vicino a quelle attività che resistono. I numeri che vi ho detto prima sono importantissimi, sono negativissimi. Allora dobbiamo guardare alle attività che resistono.